Sono Giorgio Talachini, uno dei soci della cooperativa La Foresta che ha sede a Susa. Sono 25 anni che ci occupiamo di legno sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista energetico e quello da opera e da 15 utilizziamo i prodotti della Woodmeiser sotto forma di una sega tronchi da prima e nell'ultimo anno abbiamo inserito anche una piellatrice per fare le lavorazioni secondarie sul legno. Abbiamo scelto un prodotto della Woodmeiser perché è un'azienda che ci ha assicurato un'ampia gamma di prodotti quindi di poter fare un investimento coerente con gli obiettivi che avevamo come azienda. La nostra Woodmeiser è una sega tronchi LT40 completamente idraulica, è una delle più piccole macchine professionali. La macchina in azienda consente di aumentare il valore aggiunto dei prodotti è importantissimo aumentare il valore del prodotto aziendale proprio perché il mondo forestale è un mondo molto particolare dove agiamo su scala locale ma siamo vincolati dai prezzi che si formano sul mercato globale. Il nostro bilancio dopo 15 anni di utilizzo dei prodotti Woodmeiser è assolutamente positivo. Noi continuiamo a sentirci periodicamente con il rivenditore anche solo per fare due chiacchiere questo vuol dire che si è instaurato un rapporto non soltanto di tipo commerciale ma che va ben oltre quindi anche solo il contatto annuale con la persona può far capire eventuali nuovi sviluppi, nuove tendenze di mercato e quindi ad esempio recentemente abbiamo inserito la Pialatrice, la MP100 proprio perché ci consente di fare una lavorazione in più.